Nuova edizione di Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Parliamo di cronaca e partiamo da Trapani. I carabinieri della stazione di Trapani principale hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 45 anni in ottemperanza a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine per la carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano. L'uomo dovrà scontare 4 anni e 5 mesi di carcere per i reati di estorsione, furto, truffa, minacce e molestie commessi nel capoluogo Lombardo tra il 2008 e il 2014. L'arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato associato presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Da Trapani ci spostiamo adesso a Catania e continuiamo a parlare di cronaca. Polizia di Stato e carabinieri hanno messo in sicurezza 15 nuclei familiari, tra cui anziani, donne e bambini a causa di un incendio divampato a Catania in un palazzo di Via Aurora. È accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso ma è stato reso noto soltanto stamane. Due agenti hanno accusato lievi malesseri a causa della prolungata inalazione di fumi tossici. Anche alcuni residenti hanno fatto ricorso alle cure mediche a causa dell'inalazione prolungata di fumi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e il 118. È stato accertato che le fiamme sono partite da alcune masserizie lasciate nel vano scale che hanno preso fuoco a causa di faville provenienti da un piccolo incendio di alcune sterpaglie esterne al condominio. Restiamo a Catania ma cambiamo argomento, parliamo di spaccio di droga con i carabinieri che hanno tratto in arresto un pusher. I dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania a Piazza Dante hanno arrestato un 23enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere Picanello hanno attenzionato i movimenti di un giovane che, sopraggiunto a bordo di uno scooter in via Villa Glory, ha preso contatti con un altro giovane fermo a piedi davanti ad un palazzo. Quest'ultimo, dopo aver effettuato un prelievo dalla cassetta della posta, ha consegnato qualcosa al Centauro che si è poi immediatamente allontanato. Il giovane pusher identificato poi per il 23enne è stato visto dai militari salire a bordo di un'autovettura parcheggiata nella stessa strada e partire in direzione via Nizzeti. A questo punto i carabinieri presagendo che il 23enne fosse in procinto di effettuare qualche consegna a domicilio e per evitare che potesse comunque proseguire la condotta delittuosa, lo hanno seguito fino a quando ha arrestato la marcia dell'auto in via Sgruppillo. Qui il giovane sceso dall'auto si è incontrato con un uomo che nel frattempo è uscito dal portone di un palazzo, ma i carabinieri hanno impedito l'ennesima cessione di droga e hanno bloccato il 23enne, mentre nella concitazione di quei momenti l'acquirente è riuscito a far perdere le sue tracce. Le operazioni di ricerca effettuate nei confronti del 23enne hanno consentito ai carabinieri di trovare sulla sua persona nella tasca dei pantaloni 5 buste in cellophane contenenti ciascuna 6,5 grammi di marijuana e un involucro contenente 3,15 grammi di cocaina, oltre a 170 euro ritenuto provento dello spaccio. La perquisizione stessa anche all'interno della cassetta della posta del palazzo dove abita il giovane ha dato modo ai militari di trovare complessivamente altri 9 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, mentre presso l'abitazione del giovane sono stati trovati due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e vario materiale per il confezionamento della droga. A seguito dell'ispezione del telefono cellulare in uso al 23enne, i carabinieri hanno riscontrato vari messaggi whatsapp con i quali il pusher stabiliva il prezzo dello stupefacente e le modalità di consegna agli acquirenti. I carabinieri hanno posto il 23enne a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto ed ha disposto per lui la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Restiamo in tema e restiamo nel Catanese, in questo caso la notizia arriva da Giarre dove uno spacciatore aveva tentato di sfuggire ai carabinieri ma è stato prontamente bloccato e arrestato. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre in collaborazione con i colleghi della stazione di fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato un diciottenne per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. I carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale in Largo Fleming del comune di Giarre hanno intimato l'alta ad un'autovettura in transito il cui conducente anziché fermarsi ha accelerato e superato il posto di controllo dei militari. Ne è scaturito un inseguimento durante il quale il fuggitivo poi identificato per il diciottenne ha messo in grave pericolo l'incolumità dei militari operanti e di altri utenti della strada presenti lungo il tragitto a causa della sua guida spericolata. I carabinieri quindi sono riusciti a fermare l'auto in via Trieste all'angolo con via Catania dove il diciottenne è sceso dal mezzo continuando la fuga a piedi e nel frattempo disfacendosi di un borsello. Recuperato quel borsello i militari hanno trovato al suo interno 20 grammi circa di cocaina e 6 di marijuana mentre nel prosiegue della perquisizione dell'autovettura hanno rinvenuto un ulteriore borsello contenente la cospicua somma di 2.905 euro ritenuti in provento dell'attività di spaccio. Il diciottenne pertanto vedendosi privo di alternative ha deciso di vuotare il sacco e per alleviare più gravi conseguenze giudiziarie ha indicato ai militari un nascondiglio tra la vegetazione in un tratto sterrato della via Sebastiano Lisi dove custodiva un barattolo di vetro occultato in un sacco di plastica contenente ben 5 chilogrammi di marijuana. I carabinieri hanno quindi posto l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari. Un arresto per spaccio di droga anche a Cicli nel Ragusano ma in questo caso si tratta di un giovanissimo ovvero un sedicenne. Consapevole e mirata l'attività della tenenza carabinieri di Cicli nel cui mirino si è trovato questa volta a un minorenne del posto. La città barocca continua a essere scenario di una fervente attività di spaccio di stupefacenti ma i militari dell'arma attenti a captare le esigenze della collettività e le contingenze del territorio non abbassano la guardia. All'interno di questa cornice prosegue il lavoro dei militari finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità soprattutto tra i giovani. I carabinieri di Cicli nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno tratto in arresto in flagranza di reato un minore trovato in possesso di circa 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino nonché la somma contante di 30 euro suddivisa in banconote di vario taglio ritenuta provento di spaccio. Il sedicenne alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto tempestivamente condotto negli uffici della tenenza dove sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente e del materiale necessario per lo spaccio ambulante, il tutto opportunamente celato con altro materiale e custodito all'interno di un marsupio. Quanto rinvenuto è stato opportunamente sequestrato e lo stupefacente, previa campionatura, inviato al laboratorio di analisi dell'ASP di Ragusa per gli accertamenti di rito. Il Tribunale per i minorenni etneo ha poi convalidato l'arresto del minore ed ha applicato allo stesso la misura cautelare dell'obbligo di permanenza in casa vietando contatti con qualunque mezzo, anche telefonico e telematico, e incontri con persone diverse dai familiari. Torniamo nel Catanese per la precisione ad Acireale dove i carabinieri hanno invece arrestato un pusher che aveva allestito nella cantina della propria abitazione una serra artificiale per la coltivazione e produzione della droga. I carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio hanno arrestato un pregiudicato 39enne di Acireale nella flagranza di reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso della quotidiana attività informativa e di controllo del territorio i carabinieri avevano appreso che il 39enne, da loro conosciuto per analoghi precedenti, avrebbe potuto detenere droga all'interno della propria abitazione, provvedendo addirittura alla sua coltivazione e dalla conseguente vendita al dettaglio. I militari hanno pertanto atteso che l'uomo nelle prime ore del mattino si allontanasse da casa a bordo della propria autovettura e quindi gli hanno intimato l'alta in via Salvatore Vigo. Sin da subito l'uomo percependo per lui l'ineluttabilità degli imminenti suoi guai giudiziari per alleviare la sua posizione ha confessato ai carabinieri di detenere a casa soltanto qualche pianta di cannabis. Successivamente però, all'esito della prequisizione effettuata all'interno della cantina della sua abitazione, i militari hanno constatato la presenza di una serra artigianale costituita da un armadio telato contenente quattro piante di cannabis, alte circa un metro, corredato di impianto di ventilazione, lampade e alogene per il calore, aeratore e timer. Nel prosieguo dell'attività all'interno dell'abitazione invece sono stati trovati alcuni barattoli di vetro contenenti circa 80 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, nonché una bustina con un centinaio di semi di canapa indiana. L'arrestato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che successivamente ne ha disposto la convalida dell'arresto. Sempre ad Acireale, la polizia ha invece individuato e condotto in carcere un ricercato per ricettazione. Nel corso dell'ordinaria attività di controllo del territorio, personale del commissariato di Acireale in servizio di volante, in via Carmignano ha sottoposto a controllo un'autovettura a bordo della quale viaggiava un cittadino senegalese classe 1968. Agli esiti della verifica effettuata presso gli archivi informatici dal personale della sala operativa del commissariato, l'uomo è risultato essere ricercato in quanto colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. In particolare, il senegalese è stato riconosciuto colpevole in via definitiva del reato di ricettazione per il quale deve scontare un anno, sette mesi e 28 giorni di reclusione ed era ricercato dallo scorso 17 ottobre. Dopo gli adempimenti di rito, il ricercato è stato associato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania. Ci spostiamo adesso a Salemi nel Trapanese dove un 28enne è stato invece arrestato per resistenza, minaccia e danneggiamenti. I carabinieri della stazione di Salemi hanno arrestato uno straniero classe 94 in atto sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento site in alcune vie di quel centro. Il 28enne, la scorsa estate, si sarebbe reso protagonista di una violenta rissa al centro di Salemi per la quale è stato deferito unitamente ad altri connazionali. Dopo poco tempo era stato emesso dal questore di Trapani un provvedimento di divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e di locali di pubblico intrattenimento notificato dai militari dell'arma. Dopo qualche mese l'uomo è stato sorpreso dai carabinieri all'interno di un bar in stato di ubriachezza, pertanto è stato denunciato per la violazione del provvedimento. Altro episodio simile si è verificato i primi giorni del mese in corso quando il titolare di un bar ha richiesto l'intervento di un equipaggio di carabinieri per disordini all'interno della propria attività commerciale dove il 28enne in evidente stato di alterazione psicofisica stava in vendo contro gli avventori lanciando oggetti e danneggiando alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze. All'arrivo dei militari l'uomo ha aggredito anche loro venendo denunciato. Pochi giorni fa invece il soggetto è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo dopo un intervento presso un distributore automatico Stop & Go richiesto da due donne che dichiaravano di essere state minacciate da un extracomunitario in stato di agitazione. I carabinieri giunti in poco tempo sul posto hanno sorpreso il tunisino intento a danneggiare un'auto in sosta il quale alla loro vista si è scagliato contro con in mano una bottiglia in vetro. È stato immobilizzato, è tratto in arresto e dopo l'udienza di convalida sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Salemi e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne. Parliamo di Covid, andiamo a vedere il report della Fondazione Gimbe che riguarda la Sicilia nell'isola i contagi o meglio i nuovi casi sono in calo. In Sicilia nella settimana dall'11 al 17 novembre si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi Covid, meno 3,6% rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica, mentre sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Lo dice il report della Fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,1% a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni pari all'1,1%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è invece pari al 18,9% a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni che non può quindi ricevere la terza dose nell'immediato pari al 2,6%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è dell'11,7%. La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 27,1% a cui aggiungere un ulteriore 3% solo con prima dose. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia, dice Gimbe, sono Catania 234, Trapani 233, Palermo 231, Enna 229, Messina 212, Siracusa 212, Ragusa 184, Agrigento 146 e Caltanissetta 139 casi Covid. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. Grazie a tutti.